Un dossier dettagliato pronto per il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio che dimostra pagina per pagina tutte le contestazioni apposte al progetto della variante Toto quello che prevede il perforamento di beni ambientali di primaria importanza e a presentarlo è il neonato comitato istituito dal forum abruzzese per l'acqua. Folle a nostro avviso pensare di forare per 50 chilometri, 5 volte il traforo del Gran Sasso le nostre belle montagne, Simbruini, il Sirente, addirittura sfondare le gole di San Venanzio, le gole del Sagittario fare bretelle autostradali anche nei fondovalle Val Vomano e nel fondovalle di Pescara dove la qualità della vita è precaria proprio per l'inquinamento atmosferico, consumo di suolo insomma un progetto faraonico del costo di 13 mila miliardi delle vecchie lire, 6,5 miliardi di euro riteniamo che la regione abruzza abbia sbagliato a dare un parere favorevole di Massima lo debba ritirare e abbiamo mandato una diffida anche al Ministero nasce un coordinamento di associazioni, comitati, movimenti politici, singoli cittadini coordinamento nototo salviamo l'Abruzzo noi pensiamo che la vera grande opera sia il risanamento del territorio, la depurazione mettere a posto le scuole, le strade esistenti che fanno schifo in larga parte d'Abruzzo a questo bisogna puntare e non fare nuovi scempi hanno spiegato la regione Lazio in particolare che si risparmerebbe qualcosa perché attualmente secondo la regione Lazio si va a 90 km all'ora su questa autostrada beh se uno utilizza questi dati è chiaro che vengono fuori risparmi di tempo esorbitanti siccome si va a 120 secondo le regole di 130 anche il risparmio sarebbe i 5-10 minuti assolutamente non vale la candela il gioco perché distruggerebbe il nostro patrimonio ambientale e quello che ci dà la vita, l'acqua